Un'organizzazione più efficiente, delle risorse più produttive che lavorano in un clima di collaborazione è un obiettivo di qualunque sistema organizzativo, inipendentemente dal settore e dalle dimensioni. Per ottenere questo fondamentale obiettivo c'è una sola strada che si può perseguire, passare da una visione per funzione a una visione per processi. Che cosa significa questo nel pratico? Nella visione per funzioni esiste una gerarchia, un organigramma dove le diverse funzioni si trovano a svolgere delle attività, con una visione circoscritta al completamento delle attività. La stessa giornata è organizzata per portare a termine le attività secondo una scaletta di priorità che la risorsa stessa definisce o che gli viene stimolata da colui che gli ha assegnato l'attività a monte. Nella visione per processi invece tutte le risorse si trovano a collaborare verso un obiettivo comune, ovvero soddisfare il bisogno che ha fatto nascere quello specifico processo. Solo una visione per processi permette di raccogliere quelle che sono le informazioni necessarie per andare a progettare un sistema organizzativo efficiente e produttivo. Non è una trasformazione radicale in termini di impatto verso le risorse, è prima di tutto una trasformazione che l'imprenditore deve comprendere nel modo di approcciare il sistema organizzativo introducendo metodo e strumento. Il mio intento è portarvi a conoscenza di quali sono tutte le attività che dovete svolgere all'interno della vostra organizzazione per raggiungere questo fondamentale obiettivo che vi porta dei vantaggi immensi. Per farlo iscrivetevi al canale YouTube e seguite i prossimi video.